Si torna in aula per cominciare il processo. In programma per domani la seconda udienza per l'operaio di 64 anni di Petterano Sulgizio che ha ucciso con colpi di arma da fuoco un giovane sembrare di orso Bruno Marsicano. I fatti risalgono all'11 settembre del 2014 e domani è prevista la discussione al Palazzo di Giustizia. Dopo la prima udienza celebrata una settimana fa quando il giudice del Tribunale di Sulmona Concetta Buccini ha colto la richiesta di costituzione di parte civile presentata da ben 5 associazioni del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. All'operaio imputato viene contestata l'uccisione di animale di specie protetta con arma da fuoco. L'ultimo responsabile di un atto di bracconaggio nei confronti di un orso d'Abruzzo individuato e processato risale a più di 30 anni fa, nel frattempo sono stati circa 80, dal 1971, i planti gladi uccisi con armi da fuoco, con il veleno. Se le associazioni auspicano la condanna dell'uomo, la solidarietà all'operaio è arrivata dal Comitato Cittadini Vale Larga in riferimento all'attacco mediatico, anche se sarà la giustizia alla fine ad avere l'ultima parola.